La giornata non era proprio delle migliori con la pioggia caduta abbondantemente durante l'intera mattinata di domenica. Nulla però a scoraggiati coraggiosi che hanno voluto partecipare a Gualdo Tadino alla diciannovesima edizione di Corri con il Cuore, la manifestazione podistica non competitiva a passo libero intitolata alla memoria di Saverio Pallucca, il primo umbro trapiantato di cuore famoso agli onori della cronaca per aver corso poco dopo il trapianto la Maratona di New York. Due percorsi, uno di 6 chilometri alla portata di tutti, un altro di 13 chilometri, un po' più impegnativo. La pioggia ha ridotto la partecipazione di atleti ed appassionati ma non ha inficiato lo spirito della giornata, nata quasi 20 anni fa su iniziativa del Centro di Riabilitazione per Cardiopatici di Gualdo Tadino con il fine di spronare tutti alla sana abitudine di un quotidiano movimento e per dimostrare che anche un malato di cuore può condurre una vita quasi normale, con qualche alcortezza in più. Al via erano presenti oltre al presidente dell'Associazione Cardiopatici Carlo Crocetti, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il cardiologo Odoardo Regni. Per la cronaca, sulla distanza dei 6 chilometri, i primi arrivati sono stati Erminio Pezzopane e Dellania Busco, per i 13 chilometri i primi classificati Marco Panfili e Gianna Bossi. Tra i gruppi il maggior numero di iscritti va segnalato il primo classificato con il gruppo atletico Taino di Gualdo Tadino che si aggiudica il trofeo Saverio Pallucca, secondo classificato gruppo Proloco Biancospino, terzo classificato gruppo Passeggiando su Gualdo, quarto classificato gruppo New York. La manifestazione è organizzata dalla NACA e Centro di Riabilitazione Cardiopatici per la socializzazione, per la visibilità, per ricordare a Gualdo che c'è ancora questo centro che funziona e funziona alla grande. Purtroppo il tempo non ci aiuta ma noi continueremo a lavorare e sperando nel futuro migliore.